Niente, Mirko ha messo una bella palla sul secondo palo e io di testa l'ho posato in porta. Sì, ho fatto un mese e mezzo con voglia di dimostrare di poter stare nella categoria, so che il mister Greco ha molta fiducia a me e ho provato a riparare sul campo dando tutto davvero. Che emozioni hai trovato quando hai segnato questo primo gol? Emozioni forti, non le avevo mai trovate nel calcio, forse l'anno scorso quando abbiamo avuto il campionato. Per qualche secondo non ho capito più niente, mai avrei pensato di fare una cosa così in all'interno. Grazie. Grazie. Grazie.